Casa misteriosa in centro a Bologna. Entrate! Una casa contemporanea e con un tocco gotico. Siamo nel soggiorno. Un open space con mobili scuri, colonne nere, un misterioso giardino interno. Tutti elementi che rompono gli schemi. La casa ha una complessa progettazione delle luci per creare diverse atmosfere e mettere in risalto alcune opere d'arte. Qui tutto, dalle luci agli elettrodomestici, è collegato la domotica. Alexa, spegni! Saliamo nella zona notte. Bagno. Minimal ma sofisticato, con un affresco disegnato a mano. Un altro elemento gotico sono i soffitti alti. Dietro la testiera del letto la carta da parati fino al soffitto, con un pattern monocromatico quasi damascato. Questa parete imponente e ritroilluminata nasconde la cabina armadio. Eleganza oscura e modernità gotica. Questo è uno dei 15 progetti selezionati da Spazibelli Open House. Complimenti ai professionisti!